ciao a tutti da tiger siamo nell'ultimo video dei fumetti punto zero fortnite in cui andremo a vedere l'ultimo fumetto lasciate stare queste porcherie qua se cazate qua sono giusto per bellezza non le calcoliamo eccolo qua il sesto speriamo di non far cadere un cazzo eccolo qua lo appoggiamo un attimo per terra così vada più comodo e abbiamo una vista più ampia l'ultimo fumetto che dovrebbe dare molti dicevano che dava quel piccone del primo batman punto zero che è uscito invece no da proprio il piccone di batman corazzato ovviamente queste sono cose che poi dovete vedere voi penso che online si trova in inglese si trovano le immagini cento per cento invece in italiano penso che ci sia se può cercare comunque una volta che lo comprate però ve lo leggete voi con garma non stiamo qua a leggere tutte le pagine quello che ho capito non li sto neanche leggendo vi dico la verità cioè guardando le immagini capisco che io li prendo per i contenuti per le per le collezioni non li prendo per per leggere non mi interessa niente di questa storia anche perché fa una cosa a parte di fortnite quello che ho capito che la dottoressa sloan c'è batman riuscita a ritornare nella sua dimensione e anche però la dottoressa sloan che si è unita a questo cattivo qua alex luthor che sarebbe un cattivo di superman non so cosa cazzo c'entra con combattuto ma vabbè vabbè che si è unita dice la dc con la ma cioè dice la dc con la marvel si è unita parecchie volte perché c'è stata la justin's league eccetera eccetera però quindi potrebbe cioè ci sta è che praticamente hanno cioè finisce il fumetto che la dottoressa sloan si allea con l'ex luthor e qua come potete vedere qua fine niente niente affatto cioè come se c'è un complotto come si dovrebbe dovrebbe andare avanti questi questi fumetti ci saranno le nuove edizioni non lo so vedremo più avanti cosa succede poi altra pubblicità questa è la copertina di nuovo e qui abbiamo il codice che andremo a riscattare ok dato che abbiamo riscattato l'ultimo fumetto e automaticamente abbiamo riscattato anche in totale tutti e sei fumetti dovremmo ricevere batman corazzato in modo gratuito automaticamente adesso come come detto come regola perché ogni chi riscattava tutti e sei i fumetti tutti e sei i codici avendo tutti e sei i fumetti vabbè oggetti acquistati potrebbe essere il piccone ma vediamo se è dato pure batman andiamo subito ad osservare sono curioso di vedere non so se poi potrebbe uscire gratuitamente nel negozio oggetti non lo so eccolo qua in effetti infatti c'è dato lascia la batterang il piccone equipaggio il mantello che non lo voglio equipaggiare perché mi sembra troppo grande cioè questo batman sta bene senza mantello quindi riscatta ed equipaggio ecco batman corazzato se andiamo nel negozio già sai che è molto bello porca troia ci sta un botto guarda quando hanno messo questi schifezzi in tutto il gioco guarda hanno rovinato proprio il gioco devo dire che ne valerà veramente la pena bellissimo è bellissimo raga sembrava grossi invece non è neanche anzi mi sembra che è più piccola della traskin di punto zero molto 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 bella piccone anche molto silenzioso tanta roba tanta roba mi piace molto di più dell'altro e sono veramente soddisfatto mi piace mi piace piace veramente un casino bellissimo bellissimo sembra un batman dei videogiochi una roba del genere bello va bene per oggi è tutto la serie di fumetti si conclude qua vedremo cosa succederà nel mondo di fortnite nei prossimi video ciao a tutti da tiger alla prossima grazie a tutti